appena arrivato a milano blockchain forum italia sto arrivando circa un paio di settimane fa sono stato al blockchain forum italia un evento b2b per coloro che utilizzano o che vogliono utilizzare la blockchain nelle loro aziende eccomi ci sono la seconda edizione dell'evento si è tenuta sempre a milano al talent garden via calabiana durava tutto il giorno e vi partecipavano aziende e organizzazioni di molti tipi la mattinata era quasi interamente incentrata sul main stage dove si susseguivano le varie aziende che presentavano le loro storie e le loro idee innovative molte di loro hanno spiegato in che modo la blockchain ha rivoluzionato i loro modelli di business altri hanno semplicemente riportato alcuni significativi casi di studio ho incontrato anche il moderatore dell'evento marco crotta di block chain café che non potevo non intervistare quando iniziato ad interessarmi alla block chain e le cripto valute lui è stato praticamente il mio primo mentore e da lui ho preso gran parte delle informazioni che oggi so quindi andate a vedere i suoi video ragazzi sono con marco crotta di block chain café ciao a tutti e marco allora questo block chain forum italia finalmente si parla di block chain al di fuori delle cripto valute esatto cioè si stiamo un po allargando gli orizzonti come dicevamo prima perché 2017 si parlava solo di far soldi soprattutto soldi facili che è bello e vai tutti ricchi esatto e invece adesso stanno venendo fuori cose un po più interessanti allora si scende un po più nel merito del capire la tecnologia e questo va benissimo meno male e stanno cominciando a venire fuori finalmente applicazioni nuove per sfruttare questa tecnologia e anche le criticità della block chain esatto che sono quelle che poi facendolo praticamente dici ma cacchio ma poi c'eravamo sbagliati non era così bello e in realtà poi ci si applica per migliorarla perché molti ancora partono su questo settore con scarse competenze alla base no magari ci hanno hanno sentito si lanciano ci buttiamo ci buttiamo tanto è tutto bello esatto la piscina è vuota lo scopri dopo grazie marco grazie ragazzi seguite continuate a seguire perché farò altre dirette ci saranno altri interventi a presto ciao un altro piacevolissimo incontro è stato quello con i giovanissimi ragazzi di alps block chain un'azienda tutta italiana che si sta facendo strada nel settore del mining la cosa che mi ha stupito di più è che hanno solo una ventina d'anni e sono già super all'avanguardia in questo campo adesso sono con i ragazzi di alps block chain che tra le altre cose hanno deciso di combattere il mercato della centralizzazione fatto dalla cina sviluppando un hardware che strizza anche un po l'occhio all'ecologia e magari loro possono spiegarvi meglio buongiorno innanzitutto a tutti sono io sono francesco buffa io sono francesca feiloni e insieme abbiamo creato alps block chain la nostra società ha uno scopo fondamentale cioè fare innovazione nel mondo del mining permettendo anche ad altre block chain e non solo la block chain di bitcoin di poter usufruire del algoritmo di consenso proof of work che è quello che garantisce tutti i benefici ad oggi della tecnologia block chain senza per forza dover acquistare un hardware cinese che consuma molto e che sarebbe proibitivo che è questo qua il classico l'asics sviluppando sistemi di questo tipo che consumano molta molta meno energia ma comunque hanno una potenza di calcolo molto elevata ad oggi ancora in fase di prototipo non è facile realizzare il software per validare i blocchi della block chain noi facciamo attività di mining e l'attività di mining ci tengo a precisare serve per validare le transazioni e per iscrivere nuovi blocchi nella catena della block chain e non a produrre nuovo denaro ma il denaro che noi riceviamo noi miner è una conseguenza per il lavoro e per il servizio che abbiamo bene si parla in questo momento tanto di sostenibilità e del fatto che la block chain spesso non sia green e noi invece che dire cerchiamo un costo dell'energia più basso abbiamo detto facciamo in modo che consumano meno e quindi abbiamo sviluppato una nuova tecnologia abbiamo elaborato una tecnologia esistente adattandola alla nostra domanda e quindi abbiamo sviluppato una nuova tecnologia abbiamo creato un box fbga per il mining rappresentato a liquido siete fantastici ragazzi spero ci vediamo presto salutate i ragazzi del canale ciao a tutti grazie per l'attenzione grazie fermiamoci un attimo se non state capendo questi termini non vi preoccupate è assolutamente normale e vi invito a seguirmi sul mio profilo criptococco su instagram per capirci qualcosa di più e dopo una mattinata super attiva ed energica alimentatomi solo ad acqua e caffè ho finalmente raggiunto nell'arena la mia amica super top influencer instagrammer iman jane per assistere al suo discorso inutile a dirlo ragazzi la parte più divertente è stata la cena che è venuta dopo l'evento l'unico problema è che a stomaco vuoto dopo il primo bicchiere di prosecco ho completamente dimenticato di vloggare e quindi tutto quello che vedrete da adesso in poi sono le mie storie di instagram fatemi sapere se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e mettete un bel like ci vediamo al prossimo video video si aspettava quando c'era ancora lui ma lo sapete noi abbiamo inserito adoro con la pipetta tu la vedevi in questo colpone no 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 braga non voglio lo guardare no no lui può capire scusa dobbiamo imparere il pomodoro e il cipolla l'agrodolce io la cipolla non ce l'aveo messo no cioè il supo di pomodoro Allora, per esempio, ragazzi, voi conoscete... Aspetta, faccio... Vai, dimmi, dimmi, basta fare storie. Claudio, noi conosciamo... Voi conoscete RoboCop? Un attimo! RoboCop! Ciao, io! Cicci! RoboCop! Tutti! Cicci! Cicci, ragazzi! Cicci! Vai come siamo tutti! E via! Oh, anche di là, eh! Non ci credo che sono allo stesso tavolo con Marco Crotta e Imen. E voi due dovete parlare, comunque, eh! Cicci! Facciamo un brindisi? Ragazzi, facciamo un brindisi? Dai! Questo è il tavolo dei giovani! Aspetta, però! Deve andare su questa nuova! Eh! Senza il CIN, perché sono venuti in particolare! Grazie! 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 Grazie!